Carenze di personale e di servizi per l'urgenza nel distretto 72 Sala Polla. La Will FP lancia l'allarme dopo un presunto caso di overdose di una ragazza a Padula. Con il personale medico contagiato, denuncia il sindacato, non si riesce sempre a garantire la presenza del medico per tutti i turni e i rimpalli tra i vari enti deputati non aiutano. La Will fa riferimento a quanto accaduto lo scorso 10 luglio, quando è stata interpellata la centrale operativa di Vallo per segnalare la mancanza del medico nel turno di notte presso la postazione di Padula. L'infermiera, trovatasi da sola sul posto di lavoro, si è vista arrivare attorno alle 23.30 una ragazza priva di coscienza e sotto l'effetto di eroina autosomministrata, come riferito dal giovane che l'aveva lasciata davanti alla struttura. La professionista immediatamente si è messa in contatto con la centrale di Vallo per un eventuale atto medico delegato, considerata la gravità dell'evento e per richiedere l'intervento di una medicalizzata. Ma il medico della centrale, denuncia la Will FP, non solo non ha supportato l'infermiera attraverso un atto medico delegato, ma evidentemente ignaro delle linee guida, che in particolari condizioni autorizzano la somministrazione del naloxone anche ai laici, ha messo a rischio la vita della paziente e il coinvolgimento legale dell'infermiera. Tra scorsi circa 20 minuti l'ambulanza medicalizzata non era ancora arrivata, l'infermiera ha dovuto ricontattare la centrale per sollecitare. Le è stato risposto che si stava allertando Teggiano. Alla fine l'ambulanza è giunta sul posto dopo circa 50 minuti, per prendere in carico la paziente che nel frattempo si stava lentamente riprendendo. Il sindacato ha denunciato le carenze organizzative che mettono a rischio l'assistenza in emergenza e nel caso specifico il fatto che il centro mobile di rianimazione con l'ambulanza medicalizzata non sia stato temporaneamente spostato a Padula, notoriamente più distante dall'ospedale di Polla, lasciando senza medico quella di Sant'Arsenio più vicina al pronto soccorso. Si palesa, ha concluso la Will, il ping pong tra distretto sanitario, unità operativa emergenza e centrale 118 per conflitto di gestione nell'organizzazione del personale e dei mezzi deputati all'assistenza distrettuale. Tutto questo si traduce in un danno all'utenza.